Ciao, io sono Omar, owner CrossFit Weight End, founder 1-to-1 Challenge e co-founder della Lift & Drop. Ciao a tutti, io sono Giovanni, coach a CrossFit Contamination, co-organizzatore di Lift & Drop e founder di Rank Out. Ciao, sono Luca, owner di CrossFit Contamination, co-founder di Unconventional World e co-founder di Lift & Drop Weight Lifting Competition. Lift & Drop è una competizione di weightlifting, quindi una competizione con l'uso soltanto del bilanciere. È un evento che metterà in rapporto atleti di diverso peso corporeo in un'unica categoria con l'utilizzo del coefficiente Sinclair. Il coefficiente Sinclair è un moltiplicatore in base al proprio peso corporeo, calcolato in base ai record mondiali delle Olimpiadi, quindi varia ogni 4 anni. Ogni alzata quindi viene calcolata e moltiplicata per questo moltiplicatore e quindi risulterà un nuovo numero, un nuovo peso che andrà poi a essere comparato con tutti gli altri atleti di tutti gli altri pesi corporei. In questo modo avremo una leaderboard genuina, livellata per tutti. Le fasi salienti della competizione saranno i qualifier che saranno online, due qualifier, si partirà 21 ottobre, uscita del primo qualifier alle 10 di sera, deadline 4 novembre, 10 di sera in contemporanea con deadline dell'invio e dell'iscrizione. Uscita in concomitanza del secondo qualifier che durerà una settimana fino all'11 novembre. Due qualifier che avranno doppio punteggio, 1A, 1B, 2A, 2B. In questo modo avremo una classifica e i primi 24 uomini e le prime 16 donne gareggeranno nella finale esclusiva a Torino il 6 gennaio. Che vuole aspettarsi ragazzi? Beh, ovviamente con l'utilizzo del bilanciere, massimali, 2RM, 3RM, Complex, Max Effort e Emon. Tutti i risultati sia di qualifier che delle finali verranno poi inseriti in questa nuova piattaforma chiamata Rank Out, sviluppata grazie anche alla Lift & Drop, che è appunto una nuova piattaforma di leaderboard che oltre ad essere sicura e semplice è anche bella. Come ci è venuta l'idea? Vabbè, io e Omar ci conoscevamo già ma ci siamo conosciuti meglio a un corso FIPE. Da lì è nata la specializzazione dell'utilizzo del bilanciere nei nostri rispettivi box crossfit. Perché non fare una competizione in cui si utilizza solo il bilanciere? Sappiamo che tanti entrano nei box crossfit, hanno una miriade di esercizi da imparare, ma cercano sempre poi di andare al bilanciere, caricare e droppare pesante. Quindi perché non fare una competizione in cui si lift, si solleva e drop, si droppa pesante. Da qui è nato il tutto. Il problema era come rapportare ovviamente il tutto magari al peso corporeo, perché nel crossfit andiamo a compensare con gli esercizi di corpo libero, quindi il grosso andrà forte sui pesi e magari un po' meno sulla ginnastica, ma si compensa nei workout. In questo caso noi abbiamo solo il bilanciere. Utilizzare le categorie di peso della FIPE diventava troppo comunque limitante, in quanto avevamo tante premiazioni, tante piccole categorie. Perché non uniformare tutto e far gareggiare il ragazzo di 65 kg contro il ragazzone di 95? Con il coefficiente Sinclair questo è possibile e il format è nato da questo. Perché partecipare al lift and drop? Perché durante le qualifiche potrete testare i vostri PR e magari anche batterli. Sarete inseriti in una classifica con atleti di alto livello e poi perché l'evento finale sarà un vero e proprio show. Tutti i risultati sia di qualifier che delle finali verranno poi inseriti in questa nuova piattaforma chiamata Rank Out, sviluppata grazie anche alla lift and drop, che è appunto una nuova piattaforma di leaderboard che oltre ad essere sicura e semplice è anche bella. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi, vi aspettiamo alla lift and drop. Iscrivetevi e droppate con arroganza. Ciao a tutti!